ciao a tutti e buona giornata tanto che non facevo una diretta su facebook volevo prendere posizione sulla sull'accordo che c'è stato ieri notte io ovviamente non sto in nel consiglio dei ministri per cui poi voglio leggere meglio le carte però io sono molto soddisfatto e guardate che io non sono obbligato a difendere le scelte del governo non è un segreto lo sapete che io non volevo il governo con il partito democratico e in passato sapete anche che ho criticato il movimento 5 stelle quando l'ho ritenuto opportuno per esempio sulla questione dei scalzi però vi leggo soltanto i titoli del corriere della sera di repubblica soprattutto repubblica un giornale in questo momento sta provando comunque la linea degli elcana indebolire il governo conte per provare a costruire sempre più un governo delle larghe imprese dato che arriveranno probabilmente miliardi da spendere ecco repubblica scrive autostrade entra lo stato benetton diluiti in due mosse il corriere della sera anch'esso non sempre particolarmente positivo nei confronti di questo governo scrive i benetton accettano tutte le condizioni stato prima azionista benetton al 10 per cento e fuori dal consiglio d'amministrazione allora sapete che io sono stato particolarmente duro anche insieme a danilo forse i più duri rispetto alla questione io credo fermamente nella nazionalizzazione di determinate infrastrutture e quindi ho chiesto tanto ho chiesto tanto sia perché sono le mie idee e poi perché ritengo che in sede di trattativa chiedere tanto sia anche strategico in questo momento in attesa di leggere per bene le carte io leggo che lo stato prende il controllo di una infrastruttura che è stata gestita dai privati sappiamo tutti come è stata gestita negli ultimi anni con enormi profitti e con carenze di investimenti e queste carenze di investimenti sulla sicurezza hanno prodotto 43 morti io non ricordo nel paese dove tutti gli scandali finiscono a tarallucci e vino una famiglia di potenti presa a schiaffi come è stata presa ieri notte soprattutto grazie alla durezza del movimento 5 stelle al presidente del consiglio che ha sposato su questo punto la linea del movimento 5 stelle e io credo che in questo momento se ci fosse una mosca all'interno della casa della villa dei benetton in veneto potesse riportarci quello che si dice dentro quella casa probabilmente benetton se io credo che che stiano dicendo ma possibile che in questo paese dove ci sono scandali stati scandali su scandali alla fine i gruppi i grandi gruppi industriali potenti l'hanno sempre fatta franca in qualche modo diluendo portando alla lunga ogni decisione alla fine riuscendo anche finanziando i gruppi politici a farla franca possibile che se la siano presa soltanto con noi ecco per me i benetton io non ho mai avuto alcun desiderio di vendetta per me era importante riprendere il controllo pubblico di autostrade non per punire i benetton di ieri ma come monito per i benetton di domani perché credo che anche altri gruppi industriali privati che in questo momento detengono le concessioni di altre autostrade come dire iniziano a pensare che se non fanno le cose per bene ciò potrebbe capitare anche a loro per me questo è molto importante e il fatto stesso che quando il presidente del consiglio due giorni fa in un'intervista a travaglio ha preso delle posizioni estremamente dure contro i benetton siano usciti questi soliti tromboni anti italiani alla dei benedetti contro il presidente del consiglio dicendo addirittura però berlusconi che bella personcina in fondo con l'età si invecchia meglio no per dire provando a riabilitare questo pregiudicato andando contro il governo attuale ecco mi fa me lo fa sostenere maggiormente questo governo se io vedo che dei benetti vuole buttarlo giù che gli elcan lo vogliono comunque condizionare che esce fuori pure praodi dicendo però berlusconi niente male insomma provando a costruire questa diciamo sostegno e convincere la pubblica opinione della necessità di un governo delle larghe intese quindi delle larghe imprese quindi un governo di tutti e quindi un governo non dei cittadini io allora inizio a sostenere molto di più questo governo e sapete che non non sto dentro ho il mio lavoro non campo di politica ho la mia onestà intellettuale non sono minimamente costretto a prendere una posizione del genere ma ripeto leggere determinati titoli vedere che autostrade per l'italia torna ad essere una public company in cui lo stato ha la maggioranza mi fa ben sperare per essere soddisfattissimo al mille per mille anche sapete che io appunto chiedevo tantissimo attendo di vedere la riduzione delle tariffe nei tratti autostradali di competenze di questa nuova public company per avere un diritto come cittadino dell'abbassamento delle tariffe autostradali e un piano di investimenti cosa che ho letto che fa parte dell'accordo 3,4 miliardi ho letto appunto di investimenti da spendere nella manutenzione nella sicurezza di tutti noi cittadini anche oggi io sono tornato da pescara presso un'altra autostrada diciamo non è controllata dalla famiglia benetton ma comunque mi interessano le tariffe autostradali mi interessano chiaramente la sicurezza di tutti noi cittadini veniamo a salvini io se ci fate caso vengo accusato addirittura sono stato accusato siccome avevo le mie perplessità rispetto al governo del partito democratico le ho sempre avute venivo accusato addirittura ecco lui è quasi filo salviniano io salvini lo attaccai duramente tant'è che lui quasi mi scelse come nemico pubblico numero uno quando era al massimo del suo potere perché io sono così caratterialmente quando salvini era ministro dell'interno aveva appena stravinto le elezioni europee veniva trattato dai giornali come churchill io li lo attaccavo l'ho attaccato sulla questione legata ai fondi a radio radicale al finanziamento dei giornali sulla questione benetton oggi io lo attacco meno perché lo ignoro maggiormente perché tendo sempre a prendermela con i pesci grandi e con con i pesci piccoli cazzari come lui leggere lui le sue dichiarazioni il momento 5 stelle cede al partito democratico è vomitevole è da persona ipocrita falsa in difficoltà gonfia di livore e pavida perché io ritengo e sapete che io non ero minimamente d'accordo con la caduta del governo precedente ma io ritengo che il salvinio lo abbia fatto cadere soprattutto per timore di essere costretto da lì a breve a prendere posizione sulla questione autostrade benetton e dato che è un pavido è molto più establishment di sistema di quanto possano credere alcuni suoi sostenitori lui per evitare di prendere posizioni anti establishment a favore addirittura di un di un bene che torna sotto il controllo dello stato perché salvini è un liberista è una persona che crede nelle privatizzazioni che crede nella diminuzione della forza dello stato come la bonino sostanzialmente dal punto di vista economico dal punto di vista economico e dato che aveva timore di dover prendere delle decisioni impopolari o comunque contraria alla sua indole che è un indole di liberista per me anche per questa ragione soprattutto questa ragione non soltanto per sbornia di potere ha buttato giù il governo precedente io questo lo penso e dato che lo penso lo dico salvini va attaccato innanzitutto per me ora va ignorato perché oggi è un pesce piccolo i pesci grandi sono gli Elkan i De Benedetti i Prodi che tornano insomma questa marmaglia di dinosauri che vuole provare a indebolire il più possibile un governo dove il Movimento 5 Stelle fa ancora un'azione di controllo importante poi io mi auguro che la possa fare sempre di più per poter costruire appunto un governo iper liberista e fare man bassa di denari che dovranno essere spesi nella ricostruzione per provare ad indirizzarli dove al loro signore fa più comodo in tal senso ho apprezzato molto le parole del presidente del consiglio appunto nell'intervista con travaglio sono state delle parole molto nette che infatti gli hanno fatto arrivare subito le critiche da De Benedetti io sono contento attendo come tutti i cittadini di vedere concretizzato l'accordo sono molto contento del ritorno appunto di questo bene sotto il controllo dello stato un bene che ricordo è stato consegnato nelle mani di Benetton purtroppo dalla falsa sinistra dai Prodi dai D'Alema a cavallo di quei due governi con Draghi direttore generale del tesoro con Draghi direttore generale del tesoro è sempre sono sempre state le mie idee queste io continuo sono veramente libero e oggi sono contento e dico grazie al Movimento 5 Stelle soprattutto per la durezza che ha dimostrato in questi due anni grazie a Danilo secondo me Danilo la maggior parte degli attacchi che ha ricevuto anche per qualche gaff che le fanno tutti le gaff c'è stata soprattutto perché è stato colui che più di ogni altro ha parlato in maniera dura contro la famiglia Benetton una famiglia che ha finanziato tutte le forze politiche insomma inseritissima i soliti potenti d'Italia e secondo me Danilo soprattutto per questo ha ricevuto attacchi mediatici o state sempre attenti che le gaffe le facciamo tutti poi chi parla in diretta chi anziché averci 20 persone che gli scrivono i discorsi prende fa dirette anche come questa Facebook aumenta il coefficiente di errore magari io neanche me ne sono accorto magari ho fatto una gaffe in questa diretta capita ma il modo in cui le gaffe vengono spompate dal sistema mediatico è correlato a quanto un politico un portavoce si comporti in un determinato modo e quali potenti prende di petto quindi io dico continuiamo a vigilare a chiedere tanto sia da monito anche questo successo per il Movimento 5 Stelle del futuro perché la durezza è un valore la durezza è un valore però riteniamoci soddisfatti perché ripeto qui avevamo una famiglia che faceva il bello il cattivo tempo che ha fatto profitti incredibili e che oggi è fuori dal CDA se tutto andrà in porto fuori dal CDA di questa nuova public company cioè di una nuova impresa dove lo Stato è il primo azionista coraggio un abbraccio a tutti e buona giornata ciao ciao